Giamate molto positive qui in Portogallo, sin da subito attaccato alla prima posizione e me la sono giocata fino all'ultimo, purtroppo ho fatto secondo in entrambe le giornate però dai, siamo cresciuti molto nell'ultimo periodo quindi sono soddisfatto vorrei ringraziare il team, la famiglia e tutti gli sponsor e le persone che mi hanno aiutato per arrivare fino a qui Grazie 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 Grazie